Una cosa molto semplice, molto costruttiva che possiamo fare è sostenere l'agricoltura biologica che non fa nessun danno né all'ambiente né a noi stessi come persone e quindi cercare il più possibile di consumare i prodotti biologici. Non è facilissimo magari trovarli, non ce l'abbiamo nel primo negozietto sotto casa, però qui a Genova ci sono dei mercatini, qua vicinissimo in Largo alla Franco il martedì, via Cesare al giovedì, a Sestri e Nervi il sabato, quindi proprio fare lo sforzo di comprare questi prodotti. Oltretutto sono eccellenti, sani, quindi è uno sforzo che viene poi a tutto il nostro vantaggio. Sarebbe stato bello magari con i contadini parlare del problema dei prezzi dei prodotti biologici, perché tante volte, specie di questi tempi difficili, anche io sento gente che dice che c'è, però sono cari e io non me lo posso permettere. Però penso che un buon numero di noi è ancora nella situazione di poter fare delle scelte e quindi magari possiamo rinunciare a tante altre cose, magari al vestito bello, però cercare di mangiare biologico, ecco, semplicemente, e in questo modo direi che facciamo qualcosa per la nostra salute, facciamo qualcosa per un'economia sensata e non un'economia distruttrice e avvelenatrice, facciamo qualcosa per l'ambiente, facciamo qualcosa per il paesaggio, che è molto più bello se è occupato da campi, non campi industriali, di un solo prodotto, ma più variato possibile. Ecco, volevo solo dire questo.